la realtà economica dei nostri giorni ci indica chiaramente che il cambiamento verso il bene comune non può avvenire solamente per azione di un uomo solo al comando di un deuses macchina di un sovrano illuminato per il cambiamento ci vogliono tre forze da una parte istituzioni che speriamo essere benevolenti illuminate dall'altra cittadinanza attiva quindi cittadini responsabili e imprese responsabili i cittadini responsabili sono quelli che hanno capitale sociale virtù civica ma lo strumento più importante che i cittadini responsabili hanno a disposizione per incidere sul mercato sono sicuramente le loro scelte di consumo e di risparmio e quindi il voto col portafoglio il voto col portafoglio è quella leva che può veramente spostare le cose e cambiarle cos'è il voto col portafoglio definiamolo è l'utilizzo delle proprie scelte di consumo e di risparmio per premiare quelle aziende che sono all'avanguardia nella capacità di conciliare valore economico e sostenibilità ambientale e sociale andare a premiare le aziende più brave nel coniugare eh capacità di creare valore economico lavoro degno e sostenibilità ambientale eh la grande utopia del voto col portafoglio è questa se tutti i cittadini da domani iniziassero a votare col portafoglio l'ottanta e il novanta per cento dei nostri problemi sarebbero risolti perché sul mercato vincerebbero quelle aziende più capaci di fare ehm attività economica premiando lavoro degno e sostenibilità ambientale e qual è il problema che ci impedisce di raggiungere questo grande obiettivo? Beh ci sono quattro ostacoli principali al voto col portafoglio il primo è la consapevolezza molte persone non sanno di avere questo potere non sanno di avere in tasca le chiavi dei lucchetti delle loro catene il secondo problema è l'informazione eh quando anche le i cittadini fossero consapevoli del potenziale del voto col portafoglio si bloccano perché magari non hanno contezza di quelli che sono eh le caratteristiche socioambientali rating socioambientali delle aziende non sanno giudicare quindi non sanno poi votare e scegliere il terzo problema è quello del coordinamento delle scelte io lo spiego sempre con una storiella cioè il medico il meccanico e l'economista la persona che ha vita più facile nel risolvere i problemi è sicuramente il meccanico gli date le chiavi e ci pensa lui a a riparare il medico eh ha una vita un po' più difficile può avere la ricetta giusta può essere un buon medico ma eh il suo successo dipende dalla collaborazione del paziente se il paziente non prende la medicina non c'è esito positivo nel caso dell'economista del politico che vuole usare il voto col portafoglio una ricetta che funziona sulla carta eh c'è bisogno ancora di più non basta la collaborazione di un singolo consumatore ma c'è bisogno di una collaborazione di un gruppo organizzato importante di consumatori maggioranza il voto col portafoglio può vincere anche con una quota del 10 del 15 per cento non c'è bisogno di avere la maggioranza il quarto problema è quello del prezzo il differenziale di prezzo in molti casi votare col portafoglio vuol dire pagare di più un prodotto eh per fare un esempio una pasta sostenibile bio può costare un euro mezzo chilo mentre magari all'hard discount noi paghiamo la pasta un euro eh mezzo euro un chilo eh il problema del del prezzo però eh poi ci torniamo si può risolvere ecco questi quattro ostacoli fanno capire perché oggi il voto col portafoglio ha avuto un grandissimo successo è riuscito a sfondare in finanza ma meno nei consumi in finanza ormai tutti i fondi di investimento di fatto votano col portafoglio cioè selezionano il loro portafoglio titoli eh guardano quanto il portafoglio è esposto al rischio ISG e persino il il CEO del più grande fondo di investimento del mondo Blackrock Larry Fink ha scritto due anni fa una lettera ai più grandi multinazionali dicendo che se loro non saranno socialmente ambientalmente responsabili perderanno la legittimazione ad agire license to operate cioè la legittimazione sociale finiranno in conflitto con con gli stakeholder eh quindi in finanza perché ripeto avvito perché andando a guardare i famosi quattro ostacoli questi quattro ostacoli in finanza sono superati sono pochi attori che decidono questi attori i fondi di investimento sono consapevoli del loro potere sono informati comprano tutti i giudizi di rating delle aziende le valutano eh non hanno problemi di coordinamento delle scelte perché hanno ricevuto il mandato dagli singoli investitori e quindi decidono autonomamente e il differenziale di prezzo non esiste perché i rendimenti aggiustati per il rischio dei fondi etici sono equivalenti a quelli dei fondi tradizionali nel consumo i problemi ci sono ecco perché bisogna insistere molto con una serie di azioni che cercano di eh rendere i consumatori consapevoli ecco il cash mob il cash mob è un'azione molto importante perché vuol dire è un mob un mob sappiamo che cos'è oggi una una iniziativa pubblica filmata messa sui social ma in questo caso è un cash mob sono persone che si recano tutte insieme ad un negozio per comprare un prodotto per votare col portafoglio ecco per dare proprio questa idea plastica del fatto che se ci mettiamo insieme in tanti siamo forti e possiamo cambiare le cose ecco perché i cash mob sono molto importanti servono a creare consapevolezza a dare informazione a far capire che il voto col portafoglio funziona aggregando eh le persone e torniamo sul tema del prezzo quali sono le risposte alla questione del prezzo molto semplici mh l'Italia come tutti i paesi oggi è molto polarizzata ci sono eh eh c'è una quota di popolazione che probabilmente non si può permettere di votare col portafoglio ma se tutti quelli che possono farlo lo fanno il mondo cambia basta che quelli che possono fare lo lo facciano eh e poi dobbiamo andarci a domandare se veramente non possiamo farlo quando diciamo di non poter farlo andiamo a guardare il nostro budget molto spesso è anche una questione di educazione alla spesa andiamo a scoprire che in questi budget anche di persone magari di che non hanno redditi molto elevati ci sono spese molto forti per per fumo per gioco d'azzardo per gratta e vinci e quindi la domanda è non è meglio spendere un euro in più per mangiare un buon piatto di pasta per consumare un cibo che fa salute e che è sostenibile piuttosto che destinare ad altre ad altre attività queste quote di spesa in più eh ricordiamoci che è lo stato vota col portafoglio quindi venti per cento degli acquisti sono acquisti pubblici quindi molto importante lavorare fare advocacy affinché gli appalti pubblici seguano sempre di più quelli che sono i criteri ambientali minimi criteri sociali minimi cioè diano una premialità alle aziende più sostenibili nelle scelte degli appalti sarebbe paradossale che lo stato facesse vincere società sostenibili che sfruttano il lavoro che vadano il fisco e dando in questo modo ovviamente il cattivo esempio anche a tutte le altre in più eh il partito del voto col portafoglio può lavorare sui social anche senza acquistare dare forza consapevolezza a questo movimento e quindi ci sono tanti modi per agire che superano anche questo problema della del prezzo eh beh sicuramente in questo momento ci sono due anelli che mancano eh perché questo sistema della responsabilità sociale funziona al meglio il primo è quello della metrica della misurazione c'è una legge per la rendicontazione non finanziaria è una legge obbligatoria la rende obbligatoria per le aziende sopra i cinquecento addetti è fondamentale in futuro che anche aziende più piccole direi da cinquanta addetti in su imparino a fare un secondo bilancio a misurare quegli indicatori fondamentali responsabilità sociale ambientale che consentono loro anche di monitorare il loro posizionamento competitivo su una dimensione così importante come il rischio ESG penso agli incidenti sul lavoro penso alla water footprint alla carbon footprint penso alla circolarità del prodotto penso alla quota dei rinnovabili utilizzate sono tutti indicatori di facile utilizzazione oggi esistono almeno dodici tool eh dodici strumenti informatici molto semplici che consentono col risparmio di tempo e di risorse di poter effettuare rapidamente questo tipo di misurazione certificando il dato quindi questo sicuramente uno stimolo l'altra questione fondamentale io credo sia quella della premialità il mondo sta andando verso la transizione ecologica eppure ancora oggi eh il sistema dei bonus dei manager o i premi di produzione per la mano d'opera sono tutti orientati solamente a prezzi profitti e produttività senza tener conto degli indicatori ambientali e sociali ecco è fondamentale che che i performance indicatori ambientali e sociali siano l'orientamento sulla base di quale scegliere se dare o no un bonus a un manager manager che crea valore economico ma aumentato la carbon footprint ha aumentato le emissioni inquinanti ha aumentato gli incidenti sul lavoro non ha creato valore sostenibile molte volte il rischio con questi tipi di incentivi che ci sono oggi è che il manager estraggano valore dall'azienda piuttosto che creato già oggi sotto la spinta dei fondi di investimento volontariamente alcune aziende questi indicatori ma io credo che si debba arrivare ad una situazione ancora più avanzata per questo anche attraverso il ministero dell'ambiente noi stiamo proponendo una defiscalizzazione per i premi qualora le aziende introducano questi elementi e un aiuto un incentivo alle aziende ad acquistare tool ISG per effettuare la rendicontazione non finanziaria un saluto a tutti e grazie per l'attenzione dell'azienda di investimento e per l'attenzione di investimento e per l'attenzione di investimento attraverso il rischio